Il reparto operativo aeronavale di Pescara, in stretta collaborazione con la tenenza di Ortona, ha condotto con successo un'operazione di polizia giudiziaria nel comune di Ortona. L'operazione ha portato alla scoperta di una carrozzeria abusiva all'interno di un sito che operava senza le necessarie autorizzazioni per la gestione dei rifiuti speciali e per l'emissione di fumi in atmosfera dal forno di verniciatura, violando le normative ambientali vigenti. Le indagini sono scaturite da una cooperazione efficace tra il reparto operativo aeronavale e la tenenza di Ortona. Grazie a una mirata campagna di sorvoli condotta dalla sezione aerea della Guardia di Finanza di Pescara, sono stati individuati i rifiuti abbandonati su terreni scoperti. I moderni sensori di missione installati sugli aeromobili hanno permesso di identificare la tipologia dei materiali illegalmente stoccati. Successivamente, con il supporto della tenenza di Ortona, sono stati confermati gli illeciti depositi di rifiuti in violazione delle normative ambientali. Come risultato dell'attività investigativa, il legale rappresentante della società è stato deferito all'autorità giudiziaria. Inoltre è stato eseguito il sequestro preventivo dell'area di circa 1.500 metri quadrati e di tutto il materiale presente al di sopra di essa.